Insalata di mele, noci e feta, una fresca idea per febbraio. Insalata di mele, noci e feta, freschezza e gusto. Un'insalata fresca e leggera, con un mix di sapori e consistenze che ben si adattano alla stagione di febbraio, mele, noci e feta, un connubio di sapore e benessere. Gli ingredienti principali di questa ricetta sono la mela, il formaggio feta e le noci. Si tratta di una ricetta veloce e facile da preparare, che può essere consumata come antipasto, contorno o come un piatto unico leggero e nutriente. Ingredienti 2 mele, 100 g di formaggio feta, 50 g di noci o un cucchiaio di miele, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, il succo di mezzo limone, sale e pepe cubi, preparazione lava e sbuccia le mele, poi tagliale a cubetti. In una ciotola, mescola la feta sbriciolata, le mele tagliate a cubetti, le noci tritate grossolanamente e il miele. Aggiungi l'olio extravergine di oliva, il succo di limone, sale e pepe. Mescola bene tutti gli ingredienti. Impiatta e servi subito. L'insalata di mele, noci e feta è pronta. Una ricetta facile e veloce da preparare, perfetta come contorno o come piatto unico, è anche un'ottima idea per chi vuole prendersi cura della propria salute senza rinunciare al gusto.